Drogue e cellulari nel carcere di Poggio Reale, in manette, otto persone a Napoli, c'è anche il garante dei detenuti, Pietro Ioia, avebbe approfittato del suo ruolo per introdurre dispositivi di telefonia e sono state superfacenti, dietro compenso. Per far luce sulla sparatoria di Cesinali, dove ha perso la vita uno dei malviventi, come da prassi, figurano cinque poliziotti iscritti nel registro degli indagati, intanto scoppia l'indignazione social. Confisca di beni per circa 25 milioni di euro ad un imprenditore casertano accusato di truffa aggravata, riciclaggio e appropriazione in debita, confiscate ville al mare e tre imprese operanti al settore sanitario e delle comunicazioni. Il Giro d'Italia torna in Campania anche per l'edizione 2023, quattro le tappe previste in regione tra le province di Napoli, Salerno e Avellino. Pubblicato il rapporto Svimet sulla povertà, l'allarme della Caritas, terrorizzati dal futuro, raddoppiata la distribuzione di pacchi e passi giornalieri, nuovi poveri hanno meno di 34 anni e gli anziani sempre più soli. Nuovo crollo al cimitero di Poggio Reale a Napoli, un'ala del palazzo di Tre Piani è crollata ed ha coinvolto la cappella e la zona chiamata di Porta Balestrieri, molto distante dal crollo di gennaio. La regione impegna 300.000 euro per l'organizzazione della manifestazione per la pace in piazza Plebiscito. Per Salvini è imbarazzante, viste le liste d'attesa. De Luca risponde, li fornisca lui per il tramite di qualche oligarca russo. La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto di Napoli un carico di oltre 88 kg di cocaina occultato in una presa a mare di una nave porta a container in manutenzione. Lo stupefacente era suddiviso in 77 panenti e due bottiglie. Il sindaco di Montemarano è eletto coordinatore dell'ente idrico Avellino, con lui Urcione, il comitato esecutivo percorso obbligato percorreremo l'alto calore per l'affidamento del servizio a Lake Campano. Ben ritrovati amici di Mondo Relax. Oggi siamo qui con un'offerta mai vista prima. Abbiamo realizzato la poltrona Italia, disponibile in diversi rivestimenti e colori a scelta. Approfittate dello sconto e avrete la poltrona Italia a soli 209 euro. Tutte le poltrona Mondo Relax sono dotate di motori indipendenti. Così potete alzare soltanto la pediera lasciando lo schienale dritto. Oppure riposare nella posizione letto. Chiamateci subito. Mondo Relax. Garanzia di benessere e qualità. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Con l'informazione in apertura la cronaca. Droga e cellulari nel carcere di Poggio Reali manette otto persone a Napoli. C'è anche il garante detenuti Pietro Ioia che avrebbe approfittato del suo ruolo per introdurre dispositivi di telefonia mobile e sostanze superfacenti dietro compenso. Sono otto le persone arrestate questa mattina a Napoli, sei in carcere e due agli arresti domiciliari accusati di associazione per delinquere finalizzata all'accesso di cellulari in carcere, consegnati a detenuti, corruzione, al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Tra i partecipanti al sodalizio, oltre ad alcuni detenuti dell'istituto penitenziario, figura anche Pietro Ioia, garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoli, il quale, si legge nella nota rilasciata dalla Procura, valendosi del suo ruolo che gli consentiva libero accesso all'interno delle carceri, vi introduceva, previo, compenso, dispositivi di telefonia mobile e sostanza stupefacente. In particolare, il funzionamento dell'organizzazione criminale prevedeva che la compagna di uno dei promotori, per il tramite del garante, facesse recapitare ai detenuti partecipi dell'associazione apparati di telefonia mobile e sostanza stupefacente di vario genere, che di conseguenza venivano venduti ad altre persone recluse, creando un vero e proprio commercio illegale. Le indagini sono partite nel 2021 e sono terminate nel gennaio di quest'anno. La direzione del carcere di Poggio Reale e la polizia penitenziaria hanno prestato la loro collaborazione alle indagini nella fase di osservazione dei colloqui. Ioia, secondo gli inquirenti, approfittava proprio dei colloqui mirati a verificare le condizioni in cui versavano i detenuti per effettuare le consegne che gli erano state richieste. Il denaro veniva poi versato su alcune carte ricaricabili in uso a una donna e poi diviso con gli altri sodali dell'organizzazione. Le indagini hanno evidenziato l'esistenza di un dilagante fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui ascice e cocaina, del valore economico di diverse migliaia di euro all'interno dell'istituto penitenziario. Per far luce sulla sparatoria di Cesinari, dove ha perso la vita uno dei malviventi, come da prassi figurano cinque poliziotti iscritti in registro degli indagati, intanto scoppia l'indignazione sociale. L'iscrizione nel registro degli indagati e di cinque agenti della Polizia di Stato per la morte di Giovanni Rinaldi, il 31enne di Molfetta, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco alle porte di Cesinari, fa esplodere la rabbia dei social. Commenti scandalizzati nel migliore dei casi, quasi che la morte di un uomo, benché il rapinatore con un lungo curriculum alle spalle, non meriti il rispetto di doverosi approfondimenti. Nella massima trasparenza, come sin dalle prime ore aveva sottolineato lo stesso questore Maurizio Terrazzi. Commentatori ai quali continua a sfuggire una differenza fondamentale. Lo Stato e le istituzioni che lo rappresentano si muovono nella legalità, che applicano anche nei confronti di chiunque intende sovvertirla. In altri termini, nessuno tocchi Caino, se non in nome, con le garanzie di legge. E' questa la base sulla quale si sta muovendo la procura di Avellino con l'apertura di un fascicolo o meno omicidio colposo e l'iscrizione nel registro degli indagati di 5 poliziotti, 2 in servizio ad Avellino e 3 a Foggia. Un atto dovuto senza il quale non si sarebbe potuto procedere all'autopsia e non iniziativa persecutoria nei confronti di chi, rischiando la propria vita, ha difeso la collettività. Indagini che su un altro versante continuano anche con i fari accesi dalla direzione investigativa antimafia sui clan Foggiani e Baresi, che avrebbero saldato un'alleanza militare per gli assalti ai furgoni portavalori. Un tassello importante è quello rappresentato dal boss Savino Ariostini, capo riconosciuto del commando che si apprestava ad entrare in azione sul raccordo Avellino-Salerno. Latitante dal 2020, una condanna a 15 anni e 8 scontati per associazioni a delinquere di stampo mafioso, Ariostini è considerato uno degli strateghi delle cosche pugliesi. Venne intercettato a Cesinale il mattino seguente su un autobus diretto ad Avellino. indossava una tuta del cerignola calcio pulita e stirata, nonostante una notte in fuga tra i campi. Dopo il deposito in cui sono stati sequestrati auto, tirre e camion da cava, gli investigatori stanno ricostruendo i tempi e le modalità con cui la banda si era da tempo acquartierata a Cesinale. Confisca di beni per circa 25 milioni di euro ad un imprenditore casertano accusato di truffa aggravata, riciclaggio e appropriazione in debita. Confiscate anche ville al mare e tre imprese operanti nel settore sanitario e delle comunicazioni. Il comando provinciale e la Guardia di Finanza di Caserta ha coordinato l'esecuzione di un decreto di confisca di beni immobili, mobili registrati e di quote societarie per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro nei confronti di un imprenditore casertano operante nei settori sanitario, editoriale, delle telecomunicazioni e immobiliare. L'imprenditore era già riconosciuto come un soggetto socialmente pericoloso sul piano economico-finanziario alla luce del suo coinvolgimento nel periodo 2005-2017 in molteplici vicende giudiziarie concernenti in particolare numerosi e diversi delitti a sfondo patrimoniale, quali truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, appropriazione in debita e delitti tributari per evasione fiscale ed utilizzo e demissione di fatture per operazioni inesistenti. Il materiale raccolto è stato oggetto di circostanziati approfondimenti, anche bancari, che hanno consentito di accertare un'ingiustificata discordanza tra il reddito dichiarato e le disponibilità finanziarie invece utilizzate per le acquisizioni patrimoniali, oltre all'utilizzo strumentale, le società allo stesso riconducibili per mascherare la titolarità del suo ingente patrimonio immobiliare e per drenare liquidità attraverso fittizie operazioni di restituzione di finanziamenti. Sulla base di tali evidenze, nel febbraio 2018, il Tribunale di Santa Maria Capoavetera vi ha già risposto il sequestro in vista della successiva confisca delle quote societarie e relativi complessi aziendali di tre imprese, tra cui un noto studio odonto tecnico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, un gruppo editoriale attivo nelle telecomunicazioni e un immobiliare 93 immobili ubicati in Campania, Lazio, Abruzzo e Svizzera tra cui rientravano anche ville private situate in note località turistiche otto veicoli nonché nelle disponibilità finanziarie presenti su 22 rapporti bancari conti correnti, conti di deposito e altri investimenti finanziari per un valore estimato pari ad oltre 25 milioni di euro. Il Giro d'Italia torna in Campania anche per l'edizione 2023, quattro le tappe previste in regione tra le province di Napoli, Avellino e Salerno. Il Giro d'Italia torna in Campania il 2023 per il secondo anno consecutivo ci saranno tappe anche a Pompei e Castella Mare di Stabbia oltre che nel capoluogo partenopeo, l'edizione numero 106 del grande evento sportivo del mondo del ciclismo italiano partirà all'Abruzzo il 6 maggio per arrivare poi anche in Campania dove la carovana rosa resterà per quattro giorni. A Napoli sarà l'11 maggio ma sono previste altre tre tappe ad Avellino e Salerno il Giro si concluderà a Roma il 28 maggio. La tappa di Napoli è prevista per giovedì 11 maggio 2023 il percorso passerà per i comuni vesuviani con puntate agli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano il miglio d'oro delle ville vesuviane quindi in considera Sorrentina e Amalfitana e rientro a Napoli in Campania ci saranno poi, come detto, altre tre tappe la prima ad Avellino il 9 maggio con arrivo all'aceno il 10 ci sarà la Atripalda Salerno l'11 la tappa di Napoli lasciata alla città la carovana attraverserà l'area interna del Vesuvio fino a Pompei e la sua area archeologica poi salirà sul valico di Chiunzi per arrivare a Ravello e Amalfi per raggiungere successivamente Positano, Sorrento e risalire a penisola Sorrentina e la fascia vesuviana costiera per giungere nuovamente a Napoli dove i corridori si sfideranno per la vittoria il 12 maggio il giro sarà a Capua la carovana rosa organizzata da RCS tornerà quindi per il secondo anno consecutivo nella regione meridionale quest'anno il percorso si era concentrato sull'area Flegrea a nord di Napoli con tappe anche a Monte di Procida premiato dunque il successo l'edizione napoletana di quest'anno che ha registrato anche un record di ascolti per la tappa napoletana pubblicato il rapporto Svimez sulla povertà l'allarme e la Caritas di Avellino terrorizzati dal futuro raddoppiata la distribuzione di pacchi e passi giornalieri i nuovi poveri hanno meno di 34 anni e gli anziani sono sempre più soli Nella giornata internazionale di lotta alla povertà sia Svimez sia Caritas ci mostrano un presente cupo soprattutto nel mezzogiorno in Irpinia la povertà si sta diffondendo rapidamente in maniera preoccupante alla Caritas di Avellino sono raddoppiati i numeri dei pacchi alimentari che vengono distribuiti mensilmente dei passi giornalieri e il dormitorio è sempre pieno alla Caritas si rivolgono sempre più giovani in difficoltà che hanno meno di 34 anni ma c'è una preoccupazione ancora maggiore per gli anziani che sono sempre più soli la domanda di aiuti aumenta e si teme di non poterla assorbire però le richieste sono sotto controllo la Caritas di Avellino mensilmente riesce a dare sostegni fino a circa 10.000 euro per pagare bollette acquistare farmaci o libri per la scuola ma in un futuro non molto lontano non sarà più possibile rispondere a queste esigenze siamo di fronte ad una situazione che ci terrorizza ci dice Carlo Melle direttore della Caritas di Avellino anche perché ogni giorno assistiamo alla fine di piccole imprese artigianali che non riescono ad andare avanti mentre sempre più giovani abbandonano gli studi ci sono troppi anziani soli e questo l'SOS di Dom Italiano della Sala il vice direttore della Caritas lancia l'allarme a anziani anche coloro che percepiscono una discreta pensione sono in difficoltà perché si tratta di un reddito mensile che comunque non consente loro la possibilità di pagarsi una retta presso una residenza per anziani e quindi sono costretti a restare soli pur avendo problemi di salute pochi servizi sociali troppi nuovi poveri cresce il disagio nuovo crollo al cimitero di Poggio Reale a Napoli un'ala del terzo palazzo è crollata ed ha coinvolto la cappella nella zona chiamata Porta Balestrieri molto distante dal precedente crollo di gennaio chiusura precauzionale del cimitero monumentale di Poggio Reale dopo il crollo dell'edificio funerario risurrezione nella zona vicina al varco Balestrieri il cedimento ha portato allo scoperto numerose bare che potrebbero cadere e molte salme sono già visibili a soli dieci mesi dal crollo di tre congregazioni un altro disastro a 200 metri di distanza in linea d'aria immediato l'intervento della procura è stata aperta un'indagine per capire i motivi all'origine di questo nuovo crollo e se questo evento è collegato al cedimento del 5 gennaio scorso di primo a chitto i tecnici scartano queste ipotesi in quel caso dieci mesi fa il collasso della collina e il conseguente cedimento degli edifici venne generato dallo svuotamento improvviso di una falda acquifera collegato probabilmente al lavoro in corso per la costruzione di un tunnel della metropolitana stavolta siamo più lontani eppure le immagini che ci giungono da poggio reale sono le stesse anche peggio bare in bilico sul vuoto e corpi trascinati tra le macerie una sequenza che mette i brividi e che impone una severa riflessione sullo stato in cui versa lo storico cimitero monumentale di Napoli l'assessore Santa Gada che ha raggiunto tempestivamente il luogo del crollo ha fatto diramare un'ordinanza di chiusura a tempo indeterminato dell'intero cimitero in attesa della riunione in prefettura di tutti i soggetti istituzionali competenti di certo saranno lunghi i tempi delle indagini e dei lavori di risistemazione è difficile la commemorazione dei defunti del 2 novembre prossimo stiamo alla politica la regione impegna 300.000 euro per l'organizzazione della manifestazione per la pace in piazza Plebiscito per Stalvini è imbarazzante viste le liste d'attesa risposta del governatore De Luca li fornisca a lui per il tramite di qualche oligarca russo liste d'attesa infinite negli ospedali campani ma De Luca spende centinaia di migliaia di euro per manifestazioni cortei bandiere e striscioni imbarazzante e quanto scrive sui social Matteo Salvini che pubblica una foto del governatore della Campania con la scritta De Luca spenderà fino a 300.000 euro della regione per portare gente alla manifestazione per la pace così il leader del carroccio rilancia la presa di posizione del consigliere regionale leghista Severino Nappi che sul tema ha presentato un'interrogazione scritta Nappi ha chiesto tra le altre cose di conoscere le motivazioni di ordine giuridico e contabile che consentono alla regione l'assunzione di un così rilevante impegno finanziario e se corrisponda al vero la notizia di sollecitazioni ai dirigenti di tutte le scuole campagne affinché il 28 non si tengano regolarmente le lezioni un attacco all'assessore regionale all'istruzione Fortini che avrebbe diramato le comunicazioni De Luca a stretto giro di posta risponde stesso mezzo replicando alla Lega e a Salvini invitiamo Matteo Salvini a fornirci lui per la manifestazione per la pace del 28 ottobre a Napoli magari con la mediazione di qualche oligarca russo il palco le sedie i microfoni gli amplificatori i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole i bagni chimici il supporto logistico lo invitiamo conclude la nota del governatore anche a montare il palco potrà dare un senso alla sua vita le scintille e i distinguo intorno alla manifestazione proseguono ad oggi hanno aderito il comune di Napoli e l'Anci Campania la diocesi partenopea si spacca il sindacato la CIS l'ha detto no sì della UIL la CGL riflette ci fermiamo ora per una breve pausa l'informazione è tornata tra poco perché Vittorio e io sto qua dai agisce io a te ci fermiamo ora per una breve pausa l'informazione è tornata tra poco rieccoci in studio con l'informazione riprendiamo ancora dalla cronaca la guardia di finanza sequestrato nel porto di Napoli un carico di oltre 88 kg di cocaina occultato in una presa a mare di una nave porta contenere in manutenzione lo stupefacente era suddiviso in 77 panetti e due bottiglie la stretta sinergia tra il comando provinciale la guardia di finanza di Napoli e l'ufficio delle dogane di Napoli ha permesso di individuare all'interno del porto un carico di oltre 88 kg di cocaina occultato in una presa a mare in una nave porta container in manutenzione all'interno dello scalo partenopeo lo stupefacente era suddiviso in 77 panetti e in due bottiglie allo stato liquido rinvenuti a bordo dell'imbarcazione tipo container ship battente bandiera panamense l'ispezione operata dai finanzieri delle prese a mare della nave cavità dello scafo che durante la navigazione si trovano immerse a circa 8 metri di profondità e sono utilizzate per garantire l'affreddamento dei motori ha permesso di individuare abilmente occultati sul fondo di una di esse due borsoni con all'interno i 77 panetti e le due bottiglie una volta aperti gli involucri letteralmente sigillati per impedire l'entrata di acqua di mare le analisi effettuate hanno confermato che la polvere bianca presente al loro interno era cocaina purissima e che nelle due bottiglie era presente lo stesso stupefacente allo stato liquido miscelato a sostanze stimolanti l'ingente carico anche in considerazione del quantitativo delle modalità di occultamento e di trasporto è stato sequestrato per traffico internazionale di stupefacenti nel palazzo pericolante di via Orsi a Napoli che ha portato allo sgombero di diverse famiglie resta il giallo del superattico all'ottavo piano da battere eppure in vendita su numerosi siti del settore immobiliare all'ottavo piano dell'edificio di via Orsi al vomero sgomberato a seguito del cedimento dei solai dei piani superiori la settimana scorsa c'è un superattico in vendita da luglio sull'appartamento panoramico 5 locali 930 metri quadrati di superficie tre bagni pendeva una sentenza di abbattimento della Cassazione i proprietari hanno chiesto e ottenuto il condono va precisato che la sentenza di abbattimento risalente a svariati anni fa riguardava motivazioni attinenti al decoro estetico dello stabile e non alla sua staticità la struttura incriminata non è in cemento ma fatta di travi roba molto leggera insomma non ci sarebbero nessi causali tra l'esistenza del superattico dell'ottavo piano e il rischio crollo dell'edificio di via Orsi 18 ma su questo si esprimeranno gli inquirenti che sono al lavoro quel che è certo per il momento è che due pilastri dello stabile hanno riportato uno schiacciamento con problemi che si sono riversati a cascata su tutto l'edificio al momento c'è da sciogliere il nodo delle famiglie sfollate almeno una trentina che chiedono di sapere quando potranno rientrare nelle loro case Prima di proseguire con l'informazione diamo un'occhiata al palinzesto di Prima TV per questa sera appuntamento come sempre alle 20 con il TG Campania dalle 20.30 spazio poi a Stadio e Studio in diretta per Viter Bese Avellino match post-gara a seguire forza Napoli on the road con Ennio Fo e Lino Gallo al termine del contenitore televisivo dedicato al calcio Napoli seguirà Weekend Dance la trasmissione della campagna by night a cura di Dino Piacenti che solo per oggi cambia orario e verrà trasmessa a mezzanotte e mezza anziché a mezzanotte si è tenuta a Napoli nell'aura del Consiglio regionale della Campania la conferenza nazionale dei garanti regionali e territoriali delle persone private della libertà personale il sovraffollamento delle carceri i tanti troppi suicidi in cella e il reinserimento nella società dei soggetti reclusi questi i temi al centro della conferenza nazionale dei 72 garanti regionali e territoriali delle persone private della libertà personale che si è tenuta a Napoli nella sala Siani del Consiglio regionale sentiamo Samuele Ciambriello garante dei detenuti della campagna la conferenza nazionale dei garanti delle persone private della libertà personale che si è riunita oggi a Napoli ha lanciato un po' alcuni temi alcune tracce di sollecitazione alla politica per intervenire sui temi delle carceri decarcerizzare depenalizzare portare la qualità della vita dentro il carcere superare il sovraffollamento la tutela della salute da 14 anni il diritto alla salute è regionale non è più del Ministero della Giustizia e poi inserire una progettualità per le misure alternative al carcere abbiamo in tutta Italia più di 4.000 persone che devono scontare meno di un anno di carcere occorre superare il carcere vivolo solo come estrema razio l'appello dei garanti è rivolto al mondo della politica al nuovo governo che sta per nascere ma anche agli enti locali aperture dal Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero Stamattina Samuele come sempre cerca di delineare un programma delle attività che riguardano i garanti dei detenuti che nel pomeriggio ci sarà invece un incontro con tutti i garanti dei vari organismi che abbiamo in Consiglio regionale e questa è una cosa importante perché mettono a punto una serie di iniziative che ci porteranno ad avere un miglioramento di rapporti e di relazioni chiudiamo con l'elezione del sindaco di Montemarano come coordinatore dell'ente idrico di Avellino con lui Urcioli al comitato esecutivo percorso obbligato dice proporremo alto calore per l'affidamento del servizio del lake campano Un percorso ad ostacoli con il rischio di un buco nell'acqua finale è la sfida che si ritrova davanti il neo eletto coordinatore dell'ente idrico Avellino Beniamino Palmieri anche il PD opposizione insieme all'organismo si astiene in segno di apertura non avendo i numeri ma non votando neppure i propri candidati nel comitato esecutivo regionale con Palmieri siederà Urcioli consigliere di Aielo del sabato il neo coordinatore dedica la sua a Montemarano l'elezione rivendica l'orgoglio erpino ma sa che il percorso è obbligato avrei preferito confrontarmi sulla gestione con tutti anche per evitare inutili ipocrisie dice sulla gestione pubblica o quanto accaduto in passato ad alto calore e asidep ma ora è tempo della responsabilità di Chiara Palmieri entro l'8 novembre appena commissariamento previsto dal decreto aiuti bis del governo va affidato il servizio idrico alto calore e lente in pole position nonostante una richiesta di fallimento dopo la decisione della regione di sdoppiare l'ambito per favorire l'autonomia del sannio a guida Mastella teniamo fuori i partiti in questa fase l'ente idrico di Avellino chiederà che venga seguito un percorso già costituito di Chiara Palmieri lei si aspetta che la regione Campania per il tramite dell'ente idrico campano affidi all'alto calore il servizio su vostra proposta prima della pronuncia del tribunale questa domanda non la deve porre a me mi pare di capire che questo è l'intenzione ora se questo non avverrà non avverrà perché l'EIC del distretto di Avellino non ha fatto la proposta perché se così fosse saremmo responsabili io lavorerò per evitare che accada questo quando poi la palla sarà trasferita a Napoli a Napoli noi giocheremo la nostra partita facendo valere i nostri diritti e i nostri principi nella consapevolezza che comunque la decisione non è nostra ma dall'esecutivo e soprattutto credo proprio di dire bene se dico del direttore generale e pertanto questa di fatto rappresenta una variabile indipendente che non dipende da noi quindi noi dobbiamo lavorare quello che dipende da noi che è quello che dobbiamo fare con questo servizio si conclude l'informazione buon proseguimento di giornata con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.